buongiorno con questo video do il via a una serie di video dedicati alle insegnanti della scuola dell'infanzia voglio spiegare il perché sono sempre stata affascinata da questa finestra temporale i 3-6 anni io stessa quando ho a che fare con un bambino in quella fascia di età mi sento particolarmente stimolata i risultati sono più duraturi come sappiamo che il bambino in questa fase il suo cervello è particolarmente plastico e quindi una stimolazione mirata in questa fascia di età è decisiva per il bambino ecco perché la scuola dell'infanzia ecco perché credo che la scuola dell'infanzia non voglio esagerare ma sia la scuola più importante per un bambino perché dà al bambino le radici e quindi l'insegnante della scuola dell'infanzia che ha un legame con ogni bambino è una figura importante è un punto di riferimento in quanto sfruttando questo legame col bambino può fare tantissimo in positivo e in negativo ma pensiamo in positivo può fare tantissimo per questo bambino soprattutto per quei bambini che sono in difficoltà mi sono sempre chiesta io faccio un lavoro dove lavoro col bambino in un rapporto uno a uno ma un insegnante che ne ha tanti il mio bambino come lo può aiutare e per questo ho deciso di fare questi video perché so delle cose e ho delle idee penso di avere qualcosa da dire penso di poter essere utile e voglio provare a essere utile la prima cosa importantissima che utilizzo nel mio lavoro e che ho in comune con gli insegnanti della scuola dell'infanzia è l'attività ludica sappiamo che ogni apprendimento in questa fascia d'età avviene deve avvenire in una dimensione ludica il bambino apprende notevolmente di più quando un apprendimento è passato nella sua dimensione ludica nella dimensione ludica ma questo funziona anche per gli adulti funziona anche per noi quando noi abbiamo la possibilità di apprendere attraverso l'esperienza vedendo una cosa provando una cosa concretamente divertendoci schizza la nostra capacità di apprendimento da dicono dice la scienza dal 10 al 20 per cento di una cosa semplicemente letta su un libro quando abbiamo la possibilità di vederla su youtube via e vederla fare a qualcun altro pensiamo come una ricetta di cucina quando noi abbiamo la possibilità di vedere questa ricetta messa in pratica la nostra capacità poi di riprodurla in un secondo momento è notevolmente superiore rispetto a una ricetta letta su un libro di cucina quindi funzioniamo anche noi adulti in questo modo come il bambino in particolare il bambino spesso ultimamente assistiamo a un uso eccessivo delle schede prestampate da colorare una didattica basata sulle schede che hanno ben poco di ludico il bambino colora cose molte volte che non conosce e che non ha nemmeno mai visto colora i simboli dell'autunno colora castagne che magari non ha mai visto ricci o foglie che non ha mai avuto la possibilità di manipolare quindi queste attività da colorare che non hanno un aggancio che non hanno un aggancio reale estremamente poco stimolanti per il bambino così come una didattica nella scuola dell'infanzia che precocemente propone attività cognitivamente superiori che anticipano gli apprendimenti della scuola elementare sono per un bambino un sovraccarico cognitivo eccessivo che non ha niente a che vedere con l'attività ludica mentre il gioco inteso come gioco simbolico gioco sociale cooperativo che nella scuola dell'infanzia è possibile mentre a casa è più difficile bisogna vedere il fratellino la sorellina se c'è cosa fa se ha la possibilità di giocare con lui sappiamo che le famiglie adesso sono molto meno numerose c'è anche più spazio tra un fratellino e l'altro quindi difficilmente riescono a giocare in un modo sociale cooperativo vero cosa che invece a scuola è possibile e attraverso questo gioco simbolico il bambino impara basi e competenze che gli serviranno per diventare un adulto migliore impara a gestire le emozioni impara a gestire i conflitti a farsi valere a patteggiare ad andare d'accordo a cooperare efficacemente inoltre all'interno dell'attività ludica dal bambino sappiamo che utilizza il linguaggio che è il focus dei video che faremo quindi la mia materia racconta si spiega per giocare c'è bisogno di linguaggio quindi per sviluppare linguaggio c'è bisogno di gioco e l'insegnante come si pone l'insegnante è una guida focalizzata sull'apprendimento sul linguaggio e quindi gli aiuta a riflettere all'interno del gioco a fare ipotesi a trovare soluzioni a narrare a raccontare da delle spiegazioni chiede delle spiegazioni questo per dire che gli insegnanti nella scuola dell'infanzia sono importantissimi per un bambino che ha difficoltà nel linguaggio a maggior ragione ma che ha difficoltà in generale spero che vorrete seguirmi nei miei video in questi canali in questo canale spero di potervi aiutare iscrivetevi al canale e seguitemi